Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e quello di oggi è un video un po' diverso dal solito Infatti quello che state per vedere è una sorta di best of della live che c'è stata l'altro giorno, ovvero questa Con Lolo avevamo già fatto un video insieme, ovvero questo, mi ero divertito tantissimo E allora abbiamo pensato di fare insieme un altro push, ovvero questo qua, a campione 2 Voi direte, in che senso campione 2 ferre? Ma le leghe precedenti sono 1, 2, 3, campione ce n'è solo una Ni, probabilmente alcuni di voi si sono persi questo video, mi mansono un sacco di roba oggi Dovete sapere infatti che al di là dei livelli che esistono nelle varie leghe, c'è una sorta di modo per livellare le battle card di Master Infatti se vado a selezionare le mie battle card, come potete vedere è cambiata Al momento attuale il loghino della mia lega campione ha una stellina in più Vi faccio notare come una stellina sia accesa, ovvero questa qua, ve la faccio magari di verde così si vede meglio Ok? E una sia spenta Ogni stagione si possono infatti accumulare stelline Non sappiamo quanto sia il limite, per quello che ci è dato sapere ora, il limite dovrebbe essere 6 Ad ogni modo ho parlato meglio di questo discorso delle stelline in questo video appunto Questo è un sistema semplicissimo ma che se ci pensate sprona i giocatori a fare il ranked campione o comunque il massimo che possono fare in ogni stagione Proprio per andare a cercare di tenere la battle card più esclusiva con più stelline possibili eccetera 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 Fatemi sapere se questo tipo di contenuto vi piace perché potrei portare magari la prossima stagione un'altra campione In questo caso la terza stellina sarebbe, no sarebbe la seconda stellina a terzo livello scusatemi Magari con un altro creator E soprattutto lasciate anche un bel like, arriviamo almeno a 7000 like con l'iscrizione fondamentale e campanellozza Ragazzi abbiamo superato anche i 410.000 iscritti quindi stiamo volando proprio Grazie mille per il supporto tra l'altro Detto questo vi lascio al video Siamo 2v1, Lollo non ti preoccupare nella situazione super chill Non dire queste cose che poi Così era quel colpo, Ferre Non ti preoccupare mi spari al muro sopra Ma zio non mi sono grattato il naso bambino Cioè non è che devi essere così bravo Ma stiamo giocando alle ranked, devi tryhardare Devi essere un po' più chill Vai, vai Davi quando ti ho criticato il pick di Max Non pensavo che l'avresti presa così tanto sul personale sinceramente Bravo Ferre Non lo dire, non lo dire Vai Luca Ok buona Bravo Luca E Davi Luca Ferreiro Luca Ferreiro Ragazzi Lollo Lacustre in questa live ha detto tutti come ti chiamo veramente Ma lo sanno tutti come ti chiami Oh Santuario Quanto amo sta mappa Adesso pick Blue e Chuck Lo picco io Vai Cioè è il mio Vai Chuck 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 No non me lo bannano Sei sicuro? No no secondo me lo bannano Melody e Chuck non lo banniamo raga No Melody la togliamo la bannano di là Qua facciamo Chuck Jesse esce la com della vita Vabbè Chuck non te lo banno Eh mi hanno tolto anche Jesse Prendi Angelo Prendi Angelo Prendi Angelo Prendi Angelo Fidati È tutta la live che mi fido di sto Angelo zi È 8 bit più Colt Più Colette È un po' brutta Ma sta mappa è bellissima Io Fungosa Non l'avevo vista Questo Colt che sta impazzendo a provare a fermarmi No mi ha preso No ma che cacchio È là con la ulti? No hai fatto bene Hai fatto bene Eh ma sono morto come un cretino lì Potevo fare molto di più di così Mi aspettavo di più Ragazzi abbiamo appena vinto Non parlare prima di aver vinto davvero Ah fidati Fidati Tu fidati di me Tu fidati di me Ma mi fido Cioè nel senso È raro vedere due content creator In una partita contro Si staranno pensando di essere Sì quando vedono una cosa così Si mettono a tre ardare Si gioca nella casa Permesso Toc toc bussano alla porta È Angelo Io non dico nulla ragazzi Con un arco È lui che si sta giocando l'avatar da creator Non ho detto niente Ho detto toc toc bussano alla porta Sì si sapeva che sarebbe finita così Bravo 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 ferre Che siamo Quanto siamo? Siamo a Siamo a 8-8 4-3 Allora sta partita non te ne date tantissime Però Ma secondo me un paio di partite fatte bene E ci siamo ragazzi E ci siamo E se fosse una sola Contro tre a campione Tanto siamo in rapina per la facilità di Ollo ragazzi Perché E io Ti direi che qua Perché mi hai bannato Rico Mi hai tolto Rico Ah perché hanno il primo pick loro No È stato corretto È stato severo ma giusto Melody sempre via Anche Cordellus si potrebbe togliere in realtà qua Io non direi che è fatta Solo perché Sei riuscito a prendere Spike Non è molto motivato Lollo ragazzi Non è molto motivante È molto motivante Cioè No io sono oggettivo Sono abituato al discorso motivazionale che mi hai fatto prima Puoi dire non mi puoi smontare tutto così Ok Lollo ci siamo eh Questa è l'ultima Allora aspetta Questa Se vinciamo è l'ultima partita Questa è l'ultima Lollo Questa è l'ultima Lollo Ci siamo Stiamo per fare una storia Allora vedo già un edit su TikTok con tu che dici Tu È l'ultima ci siamo E c'è un cut di noi che perdiamo con 0,20 di retio No 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 Non dire così Tu devi crederci Scusami Tu mi hai motivato prima Adesso ti motivo io Lollo Questa è stata la mia ultima mappa in cui ho fatto Master Questa è Nascondiglio Allora io qua c'ho il Dream Pick ragazzi Non se lo aspetta nessuno Sentiamo RT Aspetta prendi Angelo zi Aspetta devo bannare L'arriolo No ha bannato Mortis Mortis va bene Va bene lo stesso Ha bannato Angelo Porca vacca Perché RT ragazzi Perché RT Quando colpisce Fa 1.400 E mette un dot sulla testa dell'avversario no Col veleno il dot si attiva subito E fa un altro 1.400 Quindi fa 3.000 di danno praticamente E ma poi hai anche col gadget Che ti trasformi istantaneamente nell'altro Quindi in situazioni strane Puoi salvarti Puoi stare dietro al muro LL lacustre Cosa mi dici? Cosa dici LL lacustre? Non mi chiamare mai più LL Come Come ti devo chiamare? Lollo Cioè ragazzi È tutta la live che mi chiama Luca Ferrero E adesso Non ti ho mai chiamato Luca Ferrero Perché non mi ricordavo il tuo cognome Vabbè Oh siamo in Brawl TV Siamo in Brawl TV È perché sanno che stiamo per fare campioni Sono tutti accorsi Allora Ferre Luca Ferrero Ci siamo Ci siamo È l'ultima Siamo ad un game Mi metto gli occhiali Ci siamo Con i miei fan sanno cosa significa Anch'io mi sono messo gli occhiali Mi metto gli occhiali Anch'io li ho messi Vai Abbiamo gli occhiali Abbiamo gli occhiali entrambi Vai È quel momento? È proprio quel momento Io ho sempre Sempre sognato questa cosa Di fare la seconda stellina con Lollo Ragazzi 11-14 Basta non fare cavolate Torna indietro Torna indietro Torna indietro Torna indietro Ti preoccupare Bravo Attenzione Buonissimo Bello Vamos Let's go Let's go Signori Ci siamo Ci siamo E lei o non è lei? Siamo campioni Ce l'hai? Ce l'abbiamo Sei campione? Sono campione Sono campione Seconda stellina L'abbiamo fatta Eh sì Eh sì Ma perché c'erano dubbi? Leggendario Maddana Cosa troviamo nel leggendario? 100 punti in tutto questo Nel leggendario trovi una skin Vai Vediamo Vediamo Let's go Mille bling Che sono una skin rara Quindi va bene Dai Lo diamo per buono Ragazzi Buono Buono Let's go Sono mille uno In Italia Probabilmente sei più alto Tu di me Quanti punti hai? Non credo Fa un po' vedere Andiamo un po' in ità Sono 1343 Siamo lì eh Sì Sono 300 posizioni Va bene Va bene Va bene Signore È la grande È la grande E rieccoci signori Spero che questo Estrato stream Vi sia piaciuto Credo che Lolo In questo momento Sia uno degli streamer Migliori d'Italia Mi piace un sacco Ragazzi È stata una figata A streamare con lui Ovviamente noi Ci aggiorniamo molto presto Con il discorso Ranked Perché tra tre giorni Finisce la stagione Quindi ci sarà da ripusciare Ma soprattutto Ci sarà da tirare Le conclusioni Sui prossimi modificatori Di cui non ho ancora parlato Perché in realtà Non si sa niente Non sono stati ufficializzati Si sa giusto Un modificatore Ragion per cui Insomma Ci troveremo Tra qualche giorno A fare il nostro consueto video Dei 12 brawler consigliati Ma di questo Ne riparleremo più avanti Ovviamente Senza iscrizione Vi perdete il contenuto Quindi Conto su di voi Noi ci vediamo presto Un saluto a tutti E ciao belli Grazie a tutti